Salve, sono Gianni Franceschi. Ho trascorso una settimana a Dangarvan, in Irlanda, nel marzo del 2019. È stata un'esperienza estremamente positiva e formativa e veramente molto bella da tutti i punti di vista. Se la dovessi riassumere in tre parole direi innanzitutto curiosità, perché è stato il motivo principale che mi ha spinto a partecipare, pur non insegnando lingue straniere. Poi direi accoglienza, perché siamo stati veramente accolti come amici, come persone di famiglia, ancor prima che come insegnanti o come ospiti. Infine direi apprendimento, perché è stata un'occasione per imparare qualcosa. E credo che per noi insegnanti calarsi, ritrovarsi di nuovo nella dimensione del discente sia un aspetto determinante della nostra formazione continua. Quindi spero proprio che ci siano altre occasioni simili in futuro.